Mania, la squadra di Pordenoni, quanti siete qua a Borgo? Ma in tutto? E al primo anno si partecipate a questa corsa? Cos'è che... cosa vi è piaciuto di questa corsa? La discesa! La discesa? La pista, la pista! Non avete mai corso in una pista? Sì, 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 in allenamento. E avete conosciuto, avete fatto nuove amicizie, altri bambini? No. Non hatta che. Grazie a tutti.